ecco qua altro quarto di finale e Abrosini, Abrosini Lorenzo oddimmi del marmotto che è meglio questo maglottine qua e Sondaglia ma intanto è ancora bagarre per la seconda linea vediamo e c'è il 187 Cavallini, Daniele e intanto un peso anche bravo, fin l'altro per la seconda linea con il numero 270 Fulini, Lorenzo G5, G6 al cancelletto soffiati di coso